Sì, qui alla Sala Maccari abbiamo il senatore Giuseppe Lumia, senatore eletto nella scorsa legislatura col Partito Democratico, questa volta invece con la lista Il Megafono, lista Crocetta, unico senatore eletto con la lista Crocetta ed è una presenza particolarmente importante perché si parla tanto in questo momento di modello Sicilia. Modello Sicilia è esportabile qui in Parlamento, sì o no? In buona parte sì, perché è un metodo di lavoro. Prima di tutto il Parlamento e non le coalizioni di partito esterni al Parlamento. Prima di tutto i contenuti, la grande innovazione, il coraggio di una rivoluzione progettuale che sta dentro lo spirito e le regole della nostra Costituzione. Penso che questo approccio sia un buon approccio, non solo in Sicilia, può diventare anche un fermento che alimenta una visione parlamentare del Senato e della Camera in grado anche di creare quel dialogo e quella soluzione adatta alle drammatiche sfide del nostro Paese. Senatore, però realisticamente al momento da parte del Movimento 5 Stelle c'è stata una chiusura totale, quindi questo modello Sicilia stenta ad affermarsi qui a Roma? Stenta, ma ancora delle buone chance, perché non ci sono altre soluzioni. L'altra soluzione è la rovina per il Paese. Ecco perché siamo fiduciosi fino all'ultimo dialogo. Ecco perché votare scheda bianca favorisce la spinta alla responsabilità, guardarsi negli occhi a capire che il Paese ha bisogno di progettualità e di soluzioni vere che affrontano i drammatici temi che vivono i giovani, le famiglie, le imprese disoccupati, il mezzogiorno, la nostra terra. Ecco perché noi ci proveremo fino all'ultimo. Votare scheda bianca però non potrà andare avanti per molto tempo. Alla fine per chi bisognerà votare? Che tipo di scelta andrà fatta? Alla fine bisogna riunirsi e fare la scelta. Il Parlamento ha delle regole, il Parlamento è il luogo del dialogo, ma anche il luogo della decisione. E quindi oggi scheda bianca, oggi dialogo, dialogo, dialogo. Poi stasera si tirano le conclusioni e si prendono le giuste decisioni. Realisticamente si va al ballottaggio, secondo lei? Penso che di questo passo sembra la soluzione inevitabile, ma ancora non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo puntare tutto, ripeto, sul dialogo e sulla responsabilità del Parlamento. Sì, ci vuole un pizzico di coraggio in più. Ci vuole quella forza, quell'energia che attraversa la coscienza dei parlamentari e si mette in sintonia con i drammi che si vivono nel nostro Paese. Se si utilizza questa prospettiva, prima il Paese e poi la politica, allora il Parlamento può essere una realtà che può dare quel colpo di Reni, quel colpo d'ala per giungere finalmente alla soluzione. Ma se i Cinque Stelle non votano, non si mettono d'accordo, non raggiungono un accordo col centro-sinistra, un accordo con i Montiani e il centro-destra, lei lo vede possibile? Io penso che ancora dobbiamo insistere su questa strada, fino all'ultimo dialogo. Grazie.